Rimedi naturali e casa per la sindrome di Down. Come un genitore di un bambino con sindrome di Down, si gioca un ruolo importante per aiutare il bambino a raggiungere il suo pieno potenziale. Tu e il tuo bambino avrà sfide e le realizzazioni. I neonati e i bambini piccoli il bambino sarà probabilmente richiederà più tempo rispetto agli altri bambini per raggiungere determinati traguardi. Ma i suoi successi sono altrettanto significativo ed emozionante da guardare. Siate pazienti, e incoraggiare il vostro bambino come lui o lei impara. Camminare altre pietre miliari per lo sviluppo del motore. Puoi aiutare il tuo bambino e bambino rafforzare i muscoli attraverso il gioco diretto. Come il bambino cresce, è possibile lavorare con un fisioterapista e il medico per la progettazione di un programma di esercizi per aiutare il bambino a mantenere e aumentare la forza muscolare e capacità fisiche. Selfalimentazione. Aiuta il tuo bambino ad imparare a mangiare in modo indipendente da sedersi insieme ai pasti. Utilizzare passi graduali per insegnare al bambino come mangiare. Inizia con consentendo al bambino di mangiare con le sue dita e offrendo liquidi densi da bere. Condimento. Insegnate ai vostri figli come vestirsi se stesso prendendo tempo per spiegare e pratica. Comunicare. Semplici misure, come ad esempio guardare il bambino mentre si parla o mostrando oggetti ed i nomi, può aiutare il bambino impara a parlare. Governare igiene. Aiuta il tuo bambino ad imparare l'importanza di essere pulito e guardando il suo meglio. Stabilire una routine quotidiana per la balneazione e prepararsi. Come il bambino cresce, questo diventerà sempre più importante. A poco a poco aggiungere nuove attività di routine, come ad esempio mettere su deodorante. Incoraggiare il bambino a imparare, socializzare, e di essere fisicamente attivi. Ad esempio, iscrivere i vostri figli nelle classi con gli altri bambini della stessa età. Pensare a modi per stimolare la capacità di pensiero del bambino senza fare i compiti troppo difficili. Ma sapere che è bene per il vostro bambino ad essere messo in discussione e, a volte sicuro. Registrare il bambino in un programma precoce intervento. Questi programmi hanno personale che sono addestrati per monitorare e favorire lo sviluppo del vostro bambino. Parlare con un medico sui programmi nella vostra zona. Bambini in età scolare. Mantenere incoraggiando il bambino a imparare, socializzare, e di essere fisicamente attivi. Ecco alcuni suggerimenti. Essere coinvolti con l'educazione del bambino. La maggior parte dei bambini che hanno la sindrome di Down possono essere inclusi in una classe normale. Il vostro bambino può avere bisogno di un programma di studi adattato e talvolta può frequentare le lezioni speciali. Sappiate che il vostro bambino ha il diritto legale di istruzione. Queste leggi proteggono anche i diritti di un genitore di essere pienamente informati su o per contestare le decisioni in materia di istruzione il bambino. Essere attivi con il vostro bambino. Questo aiuterà il bambino a sentirsi meglio, anche se non lui o lei ha problemi di peso. Per ulteriori informazioni, consultare. Attività fisica per i bambini e per i bambini con disabilità. Tens. Helping rimane active. Adolescenze e ragazzi. Socialmente, gli adolescenti che hanno la sindrome di Down hanno gli stessi bisogni di tutti gli altri. La maggior parte si vuole fino ad oggi, socializzare, e formare relazioni intime. Si può aiutare il bambino a sviluppare relazioni sane con l'insegnamento adeguate capacità e dei comportamenti sociali. Accettazione per e l'autostima sono influenzati da quanto bene il vostro preadolescente o adolescente affronta questi problemi. Ecco alcuni suggerimenti. Come il bambino entra nella pubertà, insegnare una corretta governare ed igiene. Incoraggiare il bambino a partecipare alle attività scolastiche e di comunità. Ragazzi di solito diploma di scuola superiore, a meno che la loro disabilità sono gravi. Fornire opportunità per il vostro bambino per formare amicizie sane. Questo è fondamentale per la felicità del vostro bambino e senso di appartenenza. Essere consapivoli delle difficoltà sociali e le vulnerabilità il bambino deve affrontare. Inizia presto per preparare il bambino per relazioni adulte sane e la possibilità di una relazione intima. Insegnare il rispetto per il proprio corpo e quello degli altri. Parlare apertamente tua morale e le credenze. Fornire educazione sessuale che è onesto e presentata in modo che il bambino possa comprendere. Parlare di aspetti riproduttivi e intimi di sesso. Discutere i metodi di controllo delle nascite e le pratiche di sesso sicuro per prevenire le infezioni sessualmente trasmesse. Durante adolescenza del vostro bambino, si potrebbe anche voler cominciare a pianificare per i futuri lavori del vostro bambino e le modalità di vita. Molte persone che hanno la sindrome di Down vivere in modo indipendente come adulti in case famiglia o appartamenti con servizi di supporto. Ma la maggior parte case famiglia e centri comunitari richiedono un livello minimo di autosufficienza, come l'essere in grado di mangiare, vestire, e fare il bagno in modo indipendente. Formazione professionale aiuta molti giovani adulti imparano a lavorare in molti contesti, come ad esempio negozi, ristoranti e alberghi. Adulti. La maggior parte degli adulti che hanno la funzione di Down sindrome bene nella società. Spesso hanno un lavoro regolare, avere amici e relazioni romantiche, e partecipare alle attività della comunità. Un adulto con sindrome di Down vantaggi di lavorare fuori casa e avere attività sociali. Avere uno stile di vita attivo con l'apprendimento continuo rende chiunque, tra cui una persona con sindrome di Down, si sentono più vibrante e la sensazione che la sua vita è significativa. Assistenza diurna per adulti può essere un'opzione. O le olimpiadi speciali e altre attività che sottolineano l'esercizio potrebbe essere opzioni. Incoraggiare gli interessi di un adulto, come ad esempio in arte o in hobby come il disegno.